Anniversario della Polizia di Stato, tante persone hanno gremito il teatro degli industri, tante scuole, tanti bambini, perché l'attività della Polizia si esplica anche nell'educazione e nella formazione. Festeggiamo il 172esimo anno di fondazione della Polizia di Stato, non sono pochi, una storia molto lunga, una storia che è andata di pari passo con l'evoluzione della società e a cui noi ci siamo adattati. Premiremo poi anche i nostri operatori che sono distinti particolarmente in operazione di Polizia Giudiziaria importanti, la presenza di molti studenti, come vedete, perché premiremo anche il progetto, i vincitori del progetto Pretendiamo Legalità, è un progetto importante, la nostra presenza nelle scuole ma di anni è costante. Quando appunto tracciare il bilancio dell'attività della Polizia di Stato, che cosa possiamo dire? Non abbiamo consentito alla criminalità organizzata di infiltrarsi nel territorio di questa provincia, questo è un dato che non tutte le province, non tutte le regioni sono in grado di assicurare. Secondo luogo i delitti sono in netto calo, questo è un po' in ambito nazionale ma anche nella nostra provincia, questo noi lo scriviamo anche alla nostra azione sul territorio, abbiamo puntato molto sulla prevenzione, anche con un'operazione di alto impatto, cioè con presenza più massiccia di operatori di Polizia sulla strada e questo sicuramente ha portato a dei risultati che certamente continueranno a lavorare in maniera pressante per dare una maggiore percezione di sicurezza. Almeno lavoriamo non tanto sulla criminalità che qui è abbastanza tenuta sotto controllo, quanto sulla percezione di sicurezza dei cittadini che per noi comunque è altrettanto importante.